ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata sento spesso parlare del rapporto qualità prezzo in questo video vi dirò perché secondo me questo indice è assolutamente inadeguato per capire se un se un orologio nel nostro caso oppure più in generale qualsiasi oggetto può essere un oggetto di qualità quindi può arricchire il nostro la nostra vita e le nostre conoscenze oppure no secondo me non arricchisce assolutamente nulla basti dire che il termine qualità di per sé è già un termine difficilissimo dove tantissimi scrittori e tantissimi filosofi si sono cimentati ora io vorrei anche consigliarvi visto che insomma siamo in tema lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta allora questo è un libro di piercing che ha scritto peraltro è morto anche recentemente è stato scritto nel 1974 e non necessariamente parla di motociclette ma parla in generale proprio di come definire la qualità la qualità è un termine importantissimo perché se uno capisce che cos'è la qualità può vivere una vita di sicuramente migliore ecco se si capisse se si riuscisse a capire che cos'è questa questa qualità da quello che capisco io da quello che posso dirvi io con molta umiltà esiste una qualità oggettiva che è data dalle caratteristiche tecniche del dell'oggetto di per sé quindi dalle sue proprietà dalle sue caratteristiche dalle sue performance a seconda insomma di che oggetto è nel nostro caso la cronometria per esempio o l'impermeabilità per farvi degli esempi per quanto riguarda gli orologi e poi c'è una parte soggettiva quindi la qualità è una parte naturalmente che è oggettiva una parte che è soggettiva quindi la parte soggettiva è qualcosa veramente di difficile anche da spiegare perché nella parte soggettiva entrano in gioco tantissime 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 particolarità che riguardano anche la nostra personalità che non sono neanche sempre evidenti ma spesso sono anche molto latenti per cui non è non è facile non è facile capire quello che per noi è importante e quello che è importante naturalmente per gli altri certo si può fare una generalizzazione parlando insomma di un numero ecco di un numero cospicuo magari di compratori per cercare di capire che cosa muove questi soggetti oltre che alla qualità oggettiva alla qualità soggettiva ora nella soggettività ci sono tante tante particolarità che sono per esempio nel nel caso facciamo il caso per esempio di rolex è il fatto della della mancanza sul mercato di questi di questi pezzi per cui naturalmente c'è un discorso di esclusività c'è un discorso di competizione ad avere questi questi oggetti e si perde di vista anche quello che è la le caratteristiche tecniche magari di questi oggetti di questi orologi che magari può essere utili che può essere trovata anche in altri in altri orologi però si come genericamente ecco guardando alla massa ecco si tende no tutti guardando la massa la maggioranza insomma del di chi compra orologi di un certo prestigio a comprare insomma questi questi pezzi ora naturalmente questa è una spiegazione ma non è una spiegazione così semplice è un'intuizione diciamo così che si dà che do io che è un'interpretazione più che altro perché appunto per capire la soggettività che sta dietro la qualità di un pezzo non è assolutamente non è assolutamente facile per cui questa è la premessa già capire la qualità è già di per sé un un problema ma poi c'è un secondo c'è un secondo punto nel nostro mondo naturalmente il mondo di chi frequenta i forum e chi frequenta youtube si ha diciamo la volontà di approfondire si ha la volontà di conoscere sempre sempre di più ora la conoscenza di per sé è limitata cioè noi abbiamo una quantità di nozioni che possiamo naturalmente che possiamo apprendere dallo studio per esempio dall'ascoltare naturalmente video nel leggere libri che sono magari informati insomma sull'argomento specializzati sugli argomenti studiare magari sui forum da quelli che sono i forumisti più preparati e sicuramente c'è anche una componente che è l'utilizzo personale diciamo così di questi di questi orologi ok questa anche questa è una fonte di conoscenza importante diretta del degli orologi per cui naturalmente questi orologi debbano essere in qualche modo comprati oppure naturalmente prestati però nel nostro mondo avere orologi a prestito è un qualcosa diciamo così abbastanza di abbastanza di raro breitling ha provato a far qualcosa tipo di una specie di noleggio però non so neanche quanto possa essere andata bene poi questa questo chiamiamolo così questo esperimento no breitling aveva fatto ecco una campagna dove te pagavi una quota dopodiché potevi restituire l'orologio e provarne e provarne un altro che era anche un esperimento interessante ma è sempre pur sempre marginale come diciamo così come esperienza per cui questa qualità qualità nel senso di conoscenza questo questa ricerca insomma di informazioni di esperienze no di di questi orologi è sempre sempre limitata è limitata fondamentalmente dal nostro portafoglio per cui alla fine noi abbiamo insomma quelli che sono gli appassionati nel mondo dell'orologeria un limite in questo senso in questo senso questo canale soprattutto ma parla anche di orologi sicuramente di valore insomma anche molto costosi ma molto di più diciamo è specializzato in quelli che sono gli orologi che io definisco accessibili quindi il termine accessibile secondo me è un termine più interessante più utile di quello del rapporto qualità prezzo ora va detto che per quanto riguarda gli orologi accessibili naturalmente il rapporto qualità prezzo è sicuramente ottimo e questo va da sé perché perché un orologio che è accessibile per la stragrande maggioranza delle persone è un orologio che di per sé non non viene delle cifre paurose ma appunto può essere si può accedere a questo a questo orologio anche con una una paga normale ecco senza essere degli sceicchi di degli sceicchi degli emirati arabi per cui sicuramente in questo caso questi due termini sono sono vicini ma non è sempre così per esempio ci sono degli orologi che hanno dal mio punto di vista degli ottimi rapporti qualità prezzo parlo per esempio di zin parlo di doxa parlo di squale tutti orologi che vengano 1500 2000 euro 2500 euro che hanno di listino che hanno degli ottimi rapporto qualità prezzo ma in realtà non sono accessibili perché chi ha la possibilità di spendere 2000 2500 euro io non credo che siano la maggioranza delle persone ma parliamo di una parliamo di una un gruppo di persone molto più molto più limitato e naturalmente tutti quelli che sono che sono a un certo punto tagliati fuori no da questa da questa fascia di mercato sono tagliati fuori perché non arrivano a quella cifra di acquisto e quindi è inutile parlare di rapporto qualità prezzo cioè avete voglia a dire sì ma questo orologio che c'ha un ottimo rapporto qualità prezzo perché c'ha un'impermeabilità di mille metri perché c'ha una precisione la il cost che c'ha la certificazione cost che c'ha questo c'ha quest'altro sì benissimo può avere anche un rapporto qualità prezzo soggettivo quindi è già parziale che quindi è già io l'ho già contestato nella prima parte già questo fatto ma anche se ci si basa sui dati oggettivi è comunque qualcosa di assolutamente parziale che non aiuta perché tanto la maggioranza delle persone non ci arrivano a comprarlo quindi non di che cosa stiamo di che cosa stiamo parlando quindi io direi che un termine invece importante un termine che nell'orologeria che riguarda la stragrande maggioranza delle persone cioè quella che effettivamente si può toccare con mano ecco questi orologi si possano toccare con mano almeno per la stragrande maggioranza delle delle persone questi non sono diciamo così sogni ma sono qualcosa di effettivo sono qualcosa da poter fare un'esperienza sono qualcosa da cui si può imparare e qualcosa che si può trasmettere quindi c'è la parte soggettiva e c'è la parte oggettiva la parte oggettiva è data dalle caratteristiche tecniche dell'orologio stesso e poi c'è una parte emozionale soggettiva che riguarda che riguarda la persona che può darvi diciamo così quelli che sono le proprie sensazioni dopo aver indossato questo orologio per una settimana un mese un anno due anni ecco queste sono questo è quello che muove diciamo così la passione il grosso della passione del mondo dell'orologeria ma anche quello diciamo così degli altri degli altri campi ecco della non so delle delle auto oppure delle delle moto alla fine una componente importante è data diciamo così dall'esperienza personale dalla condivisione insomma ecco di quelle che sono le esperienze che si possono mettere tutti insieme io spero che questo video vi sia piaciuto piaciuto come sempre se vi è piaciuto mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti